Avvocato Nicola Senatore, continuano gli incontri con il Consilium Senatoris. Due, gli argomenti per quanto riguarda venerdì 24 e venerdì 31 ottobre sul federalismo fiscale e sulla riforma dei tributi locali. Sì, saranno due giorni dedicati fondamentalmente ai tributi locali, all'indomani della riforma del titolo della Costituzione e all'evoluzione del federalismo fiscale che comincia adesso ad avere i suoi riscontri concreti, pratici. E quindi dedicheremo questi due giorni a San D'Arsenio, sempre alla sede amministrativa della Montepruno a San D'Arsenio. Le iniziative sono in collaborazione con l'Università di Salerno, saranno presenti appunto docenti dell'Università e l'aspetto patologico invece della materia sarà trattata da un magistrato della Corte dei Condi, il dottor Ernesto Gargano. Saranno riconosciuti anche dei crediti formativi per i professionisti? Sì, continua la collaborazione con gli ordini, infatti anche questa volta avremo il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'ordine degli avvocati e quindi a testimonianza che la materia non interessa soltanto agli amministratori, agli dirigenti degli enti locali che sono poi coloro i quali l'iniziativa essenzialmente si rivolge ma anche ai professionisti, quindi agli avvocati, ai commercialisti, ai ragionieri. Dottore Daniele Padovani, lei introdurrà i lavori. Qual è l'importanza attuale di queste due tematiche, del federalismo fiscale e della riforma sui tributi locali? L'attualità è di tutta evidenza, la tocchiamo con mano sempre di più da qualche anno oramai, forse nel 2014 in maniera ancora più forte. Basti pensare all'introduzione della IUC, di questo imposto unico comunale che è suddivisa in tre tributi a sua volta che sono l'Imu, che già esisteva, la Tari per i rifiuti e la Tasi sui servizi indivisibili. Ebbene, questi sono tutti effetti del federalismo fiscale, quindi parliamo di una concreta attuazione del federalismo fiscale che anche il cittadino comincia a percepire in modo sempre più forte e con tutti i disagi che può creare, perché in una prima fase è chiaro che sono soprattutto i disagi. Basti pensare a quello che stiamo leggendo sui giornali in questi giorni o ascoltando per televisione, riguardo alla manovra finanziaria che il governo si accinge così a presentare al Parlamento, quindi sulla legge di stabilità che prevede una serie di tagli a tutti i livelli di governo, soprattutto alle regioni, agli enti locali, ai tagli della spending review, ai tagli sui trasferimenti agli enti locali. Ebbene, sono tutti effetti concreti del federalismo fiscale e quindi ritengo che questo argomento interessi il cittadino in quanto destinatario ultimo di queste riforme, ma interessi soprattutto le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli e quindi sia chi amministra e sia chi dovrà gestire tecnicamente, quindi gli uffici, i dirigenti, chi dovrà gestire praticamente queste nuove norme di riforma che il federalismo fiscale sta creando.